Un like sui social fa nascere il caos in casa Juventus. Paolo Di Bala sabato sera è stato costretto a guardare la sua squadra pareggiare col crotone dalla panchina. Con i bianconieri in dieci, Anderapirlo ha preferito non inserire l'argentino, fermo da quasi due mesi e mezzo dopo la ricaduta dell'infortunio muscolare nella notte con il Lione. Di Bala ci è rimasto male e ha spiegato i suoi sentimenti a Fabio Paratici nel post partita, sostenendo che per non giocare sarebbe stato meglio restare a Torino ad allenarsi. Ad alimentare il gossip c'è stato anche il giallo di un like messo dalla gioia a un tweet che criticava la scelta di Pirlo. Il pollice in su è stato subito rimosso, ma i dubbi se sia stato volontario o meno rimangono. Ah sì, sì, non fai gol dopo tutto quello che hai fatto, dopo 14 calci angoli, perché queste partite quando l'avversario è basso bisogna anche risolverli così, però devo dire che i miei ragazzi che sono veramente giovani, che c'è tante novità, hanno fatto una partita molto seria, che sono molto contento. È dispiacere, perché Perini ha fatto poi parate anche strepitose e su angoli potevamo magari a volte batterle meglio, ma ci sono tanti elementi. Penso che una squadra che oggi ha avuto otto giocatori nuovi rispetto all'anno scorso, solo due titolari che erano Darko e Faraoni. Ma senz'altro il nostro esordio in Champions avremmo voluto farlo davanti ai nostri tifosi perché sappiamo quanto hanno aspettato questo giorno, però purtroppo non ci saranno e cercheremo di fare una grande gara soprattutto per loro. Poi chiaramente arriviamo da una brutta prestazione, probabilmente la più brutta degli ultimi anni e quindi dovremo senz'altro fare una gara diversa domani perché prima di tutto la mia squadra in questi anni ha sempre dimostrato grandissima determinazione, grandissima aggressività e queste componenti sono le prime che dobbiamo mettere in campo, poi le nostre qualità tecniche insomma le conosciamo. Una settimana di isolamento fiduciario per la Roma che si è chiusa a Trigloria e non uscirà fino alla sfida contro il Milan capolista in programma a San Siro lunedì 26 ottobre. Dopo la positività di Calafiori, Fienga e Fonseca hanno deciso di prendere tutte le precauzioni possibili per evitare nuovi contagi. La squadra resterà a Trigloria fino a mercoledì quando il gruppo partirà per Berna dove affronterà la gara di Europa League contro lo Young Boys e continuerà l'isolamento anche nei giorni seguenti fino alla partenza per Milano.